Perfetto, volevo farlo vedere dopo, invece lo farei vedere adesso. Dato che abbiamo anche qui Enrico Casucci, il nostro educatore, può venire qua con noi con Oliver? Intanto racconto qualche cosa sul guinzaglio, nel senso che quello che intanto dobbiamo fare, come abbiamo detto, è premiare perché il cane rimane vicino a noi e non sgridarlo perché tira. Questa è la prima cosa. Il guinzaglio è uno strumento importante nella condotta e deve essere chiaramente come un telefono, io dico sempre ai proprietari. Deve essere morbido perché possiamo comunicare. Se noi comunichiamo, non anticipiamo, se noi comunichiamo tirando sul guinzaglio, noi aumentiamo la tensione. Allora, potete uscire? Sì, infatti, uscite tutti e due e così facciamo l'incontro centrosudio e vediamo come ci si comporta durante l'incontro di due cani. Questa è una cosa che preoccupa sempre i proprietari quando incontrano un altro cane al guinzaglio, diciamo che siamo in una situazione per strada oppure in un parco, non chiaramente un'area per cani perché sennò potremmo lasciarli liberi. Allora, vediamo Uma e Oliver. Allora, Uma e Oliver si incontrano, non si conoscono. Vieni Uma, andiamo di qua. Guarda Uma. Guarda Po, andiamo. Io dico sempre che nel momento per diminuire l'attenzione il proprietario deve cominciare a parlare con il proprio cane e dire Oh, ma guarda, guarda che bel cane che ho c'è l'Uma. Andiamolo a salutare. Lasciamo lento il guinzaglio e non mettiamolo in tensione e cominciamo a farlo. Guarda Po, ciccia. Guarda chi c'è. Ugo, buongiorno. E lasciamo che i cani esplorino se siamo bravi, li facciamo proprio girare e poi vedete che in questo modo non è successo nulla, ritornano e vedete che anzi si piacciono un pochettino, cominciano a scodinzolare e possono iniziare poi Uma. Non essere interessata ai pappagallini. Eh, perché Uma... Bravissimo. E Oliver, lo sappiamo nella sua storia... Induce al gioco sicuramente Uma, cerca di attirare la sua attenzione, ma come vedete nessuno di noi ha messo in tensione il guinzaglio e per cui non trasmette l'attenzione. Giusto. Perché quello che succede in quel caso se si trasmette l'attenzione possono cominciare a dire, oddio c'è qualcosa che non va e possono minacciarsi fra di loro. Beh, io direi c'è qualcosa che non va se non fosse avvenuto bene questo esperimento perché un educatore è un comportamentalista, eh. Grazie quindi ad Enrico Casucci, a Oliver, grazie al dottor Colangeli e a Uma. Bello questo esperimento. Allora, e dai cani già educati, andiamo al centro, venite tutti qua al centro per i saluti finali. Eh, ma che meraviglia. È stata veramente un'emozione stare con voi per 14 puntate con Pongo e Peggy, gli animali del cuore. Speriamo di ritornare presto per prenderci cura di questi animali. Salutiamo quindi la Mali, Produzione, la Rai, tutti gli esperti che sono stati con noi per queste 14 puntate. Gli animali che sono venuti qua, voi che avete adottato tantissimi animali e tutti gli ospiti. E davvero vi ringraziamo per la fiducia con la quale ci avete seguito. Grazie.